La situazione del trasporto pubblico nella nostra provincia sta vivendo, insieme a quello del novembre scorso, uno dei momenti più bui della sua storia, con il rischio del fallimento di riviera trasporti e con centinaia di lavoratori e relative famiglie che sono in ansia per il futuro del loro sostentamento. Abbiamo analizzato la situazione del momento dopo la riunione del Consiglio Provinciale e dopo l'incontro dei sindacati con il Presidente Claudio Scaiola, insieme al Segretario della Cisle di Savona Imperia, Claudio Bosio. La situazione è molto difficile, trasporto pubblico, che è legata poi all'azienda RT al momento, di cui la concessione scade fra 45 giorni, di cui il Consiglio Provinciale, col precedente Presidente, aveva deliberato la procedura di affidamenti in house. Nel frattempo però c'è la tegola del concordato, dell'approvazione del concordato in continuità presso il Tribunale, stante l'enorme debito che riviera trasporti accumulato in questi anni. Le cose si legano e si tengono insieme. Se l'azienda non avrà l'affidamenti in house, non potrà pensare a risanare il proprio bilancio e quindi andare definitivamente al fallimento. Dall'altra parte è chiaro che il trasporto pubblico non potrà essere interrotto, perché quando parliamo di trasporto pubblico parliamo di fasce deboli, di anziani, di studenti, di immigrati, di uomini, di donne, di collegamento tra la costa e dentro terra. Parliamo anche di oltre 350 lavoratori e lavoratrici e quindi delle famiglie che vivono del lavoro e del sacrificio che hanno fatto in questi anni in RTI, considerando che i dipendenti di RTI, a differenza dei propri loro colleghi che lavorano a Savona, a Genova e a Spezia, hanno una contattazione che costa meno all'azienda. Per cui si sta lavorando affinché si possa mettere in sicurezza RTI, l'azienda di trasporto pubblico, dare l'affidamento in house e quindi fare un piano di serramento che consenta il mantenimento dell'impresa, i posti di lavoro e la continuità dei servizi. Ieri il Presidente della provincia Claudio Squaiola ha di fatto garantito un'apertura ai dipendenti e ai sindacati che erano presenti all'incontro. Lei cosa ne pensa? Ieri non ero presente, c'erano i colleghi della federazione di categoria di Cigelle e Cisleuil. Noi avevamo incontrato con i scrittori confederali qualche giorno prima, precisamente lunedì, il Presidente della provincia che era fortemente preoccupato ma che aveva attivato un tavolo per verificare giuridicamente ed economicamente le compatibilità, le prospettive da consentire risposte adeguate da Corte dei Conti e quindi avviare questo piano reale di risalamento. Tuttavia c'è un problema che è legato anche al tempo. I 30 giorni, 45 sono molto pochi, la risposta da Corte dei Conti deve essere data nei prossimi giorni.